c'è il cecchino e un altro non ti prendi quello non è andato ok là c'è l'altro non so se si è morto o no affermativo ok ce ne abbiamo gente alla nostra con il muro perimetrale dove c'è la torre a l'alto poi il problema è la direzione vicino al muro perimetrale non li vedo est... 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 guarda dove sto guardando io al di là col muro perimetrale non li vedo qui l'ho visto andiamo un po' più profondo ok 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 qui è qui è Sì, sì, cammino non ci spugge, sei vivo? Sì, non ci spugge, non ci spugge. Sì, non ci spugge. Sì, non ci spugge, non ci spugge. Sì, non ci spugge.